Ciao, benvenuti in una nuova videoricetta! Quest'oggi prepariamo insieme la puttanesca e vi faccio vedere la mia modalità di preparazione. Lo faccio in collaborazione con Agromonte, che è un'azienda ubicata in provincia di Ragusa che utilizza pomodori 100% siguli per produrre salse e sughi. Gli ingredienti che ho utilizzato sono quindi la salsa di Agromonte pane e pasta di olive ciliegino, che è un prodotto gluten free, una manciata di acciughe, una manciata di capperi, due spicchi d'aglio tritati, dei tortiglioni e olio evo quanto basta. Come primo step mettiamo a bollire l'acqua per la pasta, poi in una padella antiaderente versiamo l'olio extravergine di oliva e gli spicchi d'aglio precedentemente tritati e lasciamo cuocere per circa 3 minuti. Una volta che il nostro aglio si sarà rosolato aggiungiamo le acciughe, lasciamo cuocere per 3 minuti e poi aggiungiamo i capperi. Ed ora è il momento di incorporare la salsa pane e pasta di olive ciliegino di Agromonte, la confezione da 100 grammi e io la inserisco tutta e lascio cuocere per 3 minuti. Metto a cuocere i miei tortiglioni, il tempo di cottura è 9 minuti, trascorsi i quali scolo e verso la pasta all'interno della salsa. E questo è il risultato della puttanesca a modo mio, la chiamo così perché alla fine ho deciso di aggiungerci un po' di ricotta salata ed è deliziosa. Io come al solito spero che questa videoricetta vi sia piaciuta, se siete interessati ai prodotti Agromonte vi lascio giù nell'info box tutti i link, io vi mando un bacione grandissimo, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!